Il fenomeno migratorio non è un fatto emergenziale, dopo tanti anni dobbiamo anche rendersene conto e farci una ragione, è un fatto strutturale e così lo dobbiamo trattare. Sicuramente ad oggi abbiamo commesso degli errori, magari non abbiamo previsto questo arrivio un po' più massissimo, senza che ci sia quel fenomeno dell'invasione, perché non c'è nessuna invasione. Certo, per un centro di Lampedusa, un piccolo centro che può ospitare 300 persone, dove si arriva anche a 2000, ovviamente diventa un grande problema, un grande disagio. Soprattutto per quelle persone che dopo aver attraversato il mare, avendo avuto tutte quelle brutte esperienze, quindi tutte quelle sofferenze, arrivare in Europa e trovare una situazione del genere sicuramente è inaccettabile, è anche un po' immorale. Quindi dovremmo organizzarci meglio, sapendo che c'è un arrivo dovuto al tempo, diciamo al mare, che ogni anno in questo periodo aumentano, e allora dobbiamo organizzarci meglio nel senso di trasferire queste persone quanto prima possibile. Man mano che arriva, ecco, magari mettere un mezzo qua. Sappiamo che stamattina sono state trasferite 116 persone, nel pomeriggio ne trasferiranno altre 80, ma ovviamente gli arrivi spesso sono più delle partenze, per cui dovremmo attrezzarci un po' meglio, magari con un aliscafo fermo qua, che fa la spola con la terraferma. Certamente questo aumento oggi suppone anche che ci sia la possibilità, che ci sia la manolonga della Russia che sta spingendo i miliziani di Haftar a inviare più, diciamo, più migranti nell'isola per mettere in difficoltà l'Europa, ma soprattutto per mettere in difficoltà l'Italia, che in un periodo di elezione sta facendo il gioco delle destre per poter superare ancora, diciamo, le elezioni. Lo sappiamo che questo è un campagno di battaglia, diciamo, un campo di battaglia delle destre, quindi, insomma, un aiuto del genere gli fa bene. Questo però non è assolutamente accettabile. Dopo anni che ha vissuto anche situazioni non lieto fine, diciamo così, come mai queste notizie non riescono a fermare le partenze? Beh, le partenze non si possono fermare e non si devono fermare, perché è inutile che noi facciamo un memorandum con la Libia, da quando si è appena con la Libia, con la Guardia Costiera Libica, che sono dei delinquenti, sono loro, diciamo, i veri, come dire, i trafficanti di esseri umani e che sappiamo come li trattano da quelle parti, diciamo, all'interno di quei lager. Quindi queste persone dovrebbero arrivare attraverso i canali irregolari e non attraverso il mare, dove sappiamo che purtroppo, a parte le sofferenze, perdono la vita. Questo mare che noi vediamo qua davanti a me, il mio mare, che è diventato un cemitero, questo a noi è assolutamente sopportabile. L'Europa se ne deve rendere conto e deve ovviamente affrontare il fenomeno della migrazione come fenomeno, non come problema, e magari risolverlo facilmente risolvibile. Penso io anche perché non è vero che c'è l'invasione, non è vero che portano malattie, non è vero che vengano a rubare nulla e non è vero che vengono, diciamo, a togliersci i posti di lavoro. Quindi bisognerebbe semplicemente sedersi attorno a un tavolo, come dovrebbe fare un buon politico, un buon uomo delle istituzioni, e quindi affrontare il fenomeno per saperlo, per governarlo, con intelligenza, razionalità e lungimiranza. Perché per come l'abbiamo trattato fino a oggi e per come continuiamo a trattarlo, indubbiamente non è risolutivo, non risolveremo mai, perché non è con i blocchi a mare, né con i filospinate, né con i mure, che si può fermare il fenomeno della migrazione. Grazie